A marzo del 2016 dovetti decidere se tenere o vendere il mio MacBook Pro del 2014 per comprare una nuova tipologia di prodotto. Alla fine decisi di cambiare il mio prodotto di punta e quindi poi arrivò il primo iPad Pro. Una scelta che feci soprattutto per un motivo. Avevo oltre al MacBook Pro del 2014 anche un iPad Air di seconda generazione, prodotto che però avevo nella sola configurazione Wi-Fi. E quindi avevo bisogno di un prodotto che poteva essere utilizzato anche fuori casa. Avevo bisogno finalmente di un prodotto che mi garantisse la possibilità di essere connessi sempre. E quindi a marzo del 2016 l'iPad diventò il mio computer rimanendo la mia unica macchina fino all'estate del 2019. Tutto questo però nel 2018 divenne qualcosa di leggermente ossessivo. Perché su Twitter decisi di fare un sondaggio chiedendo alla gente che mi seguiva se avessi dovuto tenere o meno il mio iPad Pro da 10 pollici e mezzo. La gente decise che per tre mesi io sarei dovuto rimanere senza tablet. E quindi di conseguenza io per tre mesi dovetti rimanere senza un computer. Fu una delle stati più belle perché continuavo ad andare in giro perché non potevo vedere serie tv, uno schermo grande perché avevo solo l'iPhone. E quindi mi dicevo ok perché devi stare a casa a guardarti un contenuto, uno schermo da 5 pollici e 8 quando puoi uscire. E quindi uscii, quindi continuai a vivere la mia vita però in alcuni momenti sentivo il bisogno di un iPad. E quindi twittavo e quindi mandavo messaggi in gruppi Telegram in cui mi lamentavo tantissimo e diventai realmente un incubo di tante persone alle quali cinque anni dopo col senno di poi devo dare ragione e quindi devo chiedere scusa. Dal 2018 poi cambiarono le cose. Nel gennaio del 2020 aprì un podcast che si chiamava An iPad Guy e raccontava di come effettivamente l'iPad cambiava realmente il mondo dell'informatica. E poi un po' il progetto sfumò per colpa di Apple perché non presentava più così tanti aggiornamenti, perché iPadOS in qualche modo era un software traballante. E quindi da un certo punto di vista mi renesi conto che l'iPad non doveva più essere un prodotto così importante per Apple. Ma poi arrivò il 2024, arrivò il primo gennaio 2024 e tutto in qualche modo ritornò alle origini. Da quest'anno ragazzi rassegnatevi, io parlerò di iPad Pro. Oggi inizia ufficialmente l'anno dell'iPad e quindi come iniziare il 2024 se non con una puntata che non esce di mercoledì tutta dedicata all'iPad Pro? In realtà questo è l'unico episodio che voglio dedicare all'iPad fino a quando poi effettivamente tra due mesi e mezzo sapremo tutto sull'iPad. Questa è l'unica puntata monografica sull'iPad Pro fino al giorno della presentazione. Perché nel frattempo sono cambiato, non sono più il ragazzino che gioca con l'iPad. Sono ancora di più appassionato di tutta la tecnologia Apple a 360 gradi perché ci sono altri prodotti che arriveranno in questo 2024 forse ancora più interessanti dell'iPad Pro. E di tutti questi prodotti parleremo nella puntata di mercoledì perché Uetec uscirà sempre il mercoledì. Però avevo bisogno di un qualcosa di separato per parlare di iPad. E quindi oggi voglio fare una puntata monografica sull'iPad Pro del 2024. E come iniziare l'anno se non parlando realmente di un prodotto che aspetto forse ancor più ossessivamente di quel modello del 2018? All'epoca non avevo nessun iPad, dovetti aspettare più di tre mesi senza un tablet. Adesso se io guardo alla mia destra ho due tablet. Ho un iPad mini di sesta generazione e ho il mio iPad Pro da 13 pollici. E qua arriviamo a quello che ad oggi rappresenta l'iPad. Rappresenta l'iPad con l'M Series. Quindi iPad M1, iPad M2, soprattutto gli iPad Pro. Perché credo che Apple si sia giocata un po' la reputazione quando oramai due anni fa, nel 2022, piegò la schiena regalando Stage Manager anche agli iPad Pro del 2018 e del 2020. Doveva essere un'esclusiva degli iPad con M1 e poi successivamente ad ottobre di due anni fa, praticamente 14 mesi fa, con appunto la seconda generazione di cheap Apple Silicon e che avrebbe garantito un po' più di materiale elitario su quel prodotto. E infatti poi, successivamente, sarebbe arrivata la versione tablet di Final Cut solamente per gli iPad Pro e gli iPad Air con M1 o M2. Oggi l'iPad Air lo lasciamo in un angolo. Degli altri iPad parleremo in maniera un po' più sbrigativa nella puntata di mercoledì. Ma nell'episodio di oggi mi voglio realmente concentrare su quella che è l'eredità che spetta a questi iPad che arriveranno nei prossimi 90 giorni. Perché ad oggi noi non abbiamo visto nessun nuovo iPad esattamente da quel modello che io aspettavo con bramosia in quell'estate in cui continuavo a chiedere ossessivamente dove fosse un nuovo modello di iPad. Ed effettivamente poi l'iPad Pro del 2018 fu realmente qualcosa di rivoluzionario. Da lì iniziò un processo che negli anni poi si sarebbe rivelato come il punto di partenza della nuova Apple. Dal 2018 noi possiamo vedere il design degli altri prodotti Apple a partire ovviamente dagli iPhone 12 e successivi. E da questo punto di vista quindi mi rendo conto che effettivamente ad oggi gli iPad perché poi dall'iPad Pro del 2018 sono nati anche gli altri prodotti a partire dall'iPad Air del 2020 all'iPad mini del 2021 all'iPad di decima generazione due anni fa. E quindi da questo punto di vista forse il nuovo design secondo me potrebbe essere realmente il vero fulcro di una Apple che cambia passo. Un design che ad oggi non abbiamo ancora visto. Tutti parlano di nuove linee che io spero possano essere riprese dagli iPhone 15 quindi praticamente lo stesso design di prima con bordi un po' più arrotondati ma soprattutto la cosa che mi aspetto è una rivisitazione dei bordi e dei fattori di forma perché ad oggi noi abbiamo due modelli di MacBook Air due modelli di MacBook Pro con due diagonali diversi ma con lo stesso fattore di forma quindi in qualche modo tutto dovrebbe essere messo in continuità con gli altri prodotti Apple. Come dicevamo nell'episodio di mercoledì, nell'ultimo episodio dell'ottava stagione del podcast Apple sta mettendo in ordine le cose e l'iPad Pro deve essere il prossimo step perché da quello che succederà durante quell'evento secondo me potrebbero cambiare le cose per i prossimi 4-5 anni. Apple sembra andare con i piedi di piombo quando si parla di iPad perché gli aggiornamenti vengono rilasciati con il contagocce quello che è stato l'iPad Pro del 2018 è stato l'iPad Pro del 2020, del 2021 e del 2022. Lo scorso anno noi non abbiamo visto nessun aggiornamento di iPad e secondo me è stato molto significativo perché vuol dire che in questo 2024 noi vedremo finalmente il frutto del lavoro di Apple da molteplici punti di vista a partire dal design all'hardware al software perché pensiamo a quello che è successo esattamente dopo la presentazione di quell'iPad quello che è successo dopo la presentazione dell'iPad del 2018 rilasciato con iOS 12 noi nella WWDC del 2029 abbiamo visto per la prima volta iPadOS e iPadOS negli anni non è stata questa grande rivoluzione soprattutto perché per qualche anno iPadOS ha preso le stesse funzioni del sistema operativo dell'anno precedente per gli iPhone pensiamo semplicemente ad App Library arrivato un anno dopo la presentazione delle nuove possibilità di organizzare anche la Springboard su iPhone stessa cosa lo scorso anno noi con iPadOS 17 abbiamo avuto la possibilità di modificare le home screen come abbiamo avuto nel 2022 su iPhone e quindi da questo punto di vista forse con iOS e iPadOS 18 potrebbe ripetere la solfa però se nel 2019 noi abbiamo visto dopo la presentazione di un iPad rivoluzionario un software che effettivamente valesse la pena far girare su quel tablet io spero che quest'anno tutto si possa ripetere e quindi dopo iPadOS 17.4 che arriverà verosimilmente con questa nuova generazione di iPad Pro forse potrebbe valer la pena aspettare la WWDC di quest'anno per capire se effettivamente iPadOS 18 possa sbaragliare le carte perché nel tempo le novità le abbiamo viste sono arrivate, sono state in qualche modo sistemate e ovviamente sto parlando di Stage Manager però credo che ci sia ancora tanto lavoro da fare e siccome lo scorso anno noi non abbiamo visto praticamente nessuna novità a livello hardware ma anche a livello software perché la grossa rivoluzione arrivata con iPadOS 17 è stata finalmente una miglioria notevole di Stage Manager e quindi novità non ne abbiamo viste perché abbiamo avuto la possibilità di cambiare gli sfondi e di mettere i widget sull'iPad cosa che come dicevamo qualche minuto abbiamo avuto con iOS 16 sugli iPhone e quindi da un certo punto di vista forse quest'anno le cose verranno aggiustate e credo che il prossimo iPad Pro debba necessariamente vedere questo balzo netto in avanti perché abbiamo bisogno di un software in grado di sfruttare al meglio un prodotto che è assolutamente all'ultima possibilità perché la concorrenza si sta facendo agguerrita Samsung con la sua linea S9 anche a livello hardware ha fatto capire ad Apple che effettivamente c'è la volontà di creare un'alternativa nel mondo Android al tablet che ancora oggi è e probabilmente sarà per i prossimi un prodotto di punta e quindi nel 2024 deve arrivare qualcosa di importante anche perché la direzione secondo me è quella di andare ad unire non solo gli iPad e i Mac ma tutti i prodotti Apple e quindi ad esempio l'app calcolatrice che adesso è il meme deve arrivare perché un domani probabilmente noi avremo un iPad che non avrà né iPadOS né MacOS avrà un sistema operativo e si adatterà all'esigenza del utente io quando nel 2016 scelsi l'iPad Pro lo feci perché aveva la Magic Keyboard o meglio aveva quella che all'epoca si chiamava Smart Keyboard e che effettivamente mi dava la possibilità di utilizzarlo sia come tablet che come simil computer poi è arrivato il 2020 è arrivata la Magic Keyboard è arrivato iPadOS 13.4 è arrivata finalmente la possibilità di usare il mouse e la tastiera e quindi una Magic Keyboard con un trackpad che trasformava ancora una volta l'iPad in qualcosa di più però ancora oggi noi non abbiamo visto la trasformazione definitiva che è la cosa che io mi aspetto dalla prossima generazione di iPad e di tastiera e le direzioni che tutti i rumor stanno prendendo è realmente quella di un prodotto che nel tempo andrà ad affiancare e magari in un futuro a sostituire i Mac probabilmente non avranno mai la serie Pro, la serie Ultra, la serie Max ovviamente nel mezzo però in qualche modo sarà il nuovo MacBook Air ed è per questo che io chiedo a gran voce il ritorno di un formato classico nel cuore e nella mente di tanti utenti Apple perché l'11 pollici che a me manca tantissimo e probabilmente il mio prossimo iPad Pro sarà il modello piccolino forse è leggermente limitante però sappiamo benissimo cosa ha fatto Apple negli ultimi anni prima ha fatto un MacBook Air da 11 pollici e 6 e poi ha fatto un MacBook da 12 pollici e lì la produttività comunque era garantita e quel mezzo pollice in più fa bene oggi e farà bene domani e quindi se a marzo dovesse arrivare un iPad Pro leggermente più grande con una tastiera che effettivamente faccia la tastiera di un computer tutti noi utenti iPad potremmo finalmente avere una macchina in grado di sostituire anche da un punto di vista contenutistico proprio come elementi visibili nel computer un MacBook Air da 12 pollici che non abbiamo mai avuto ma che tante persone vorrebbero nella maniera più ottimale perché oltre al tablet diventa un computer ma soprattutto quando non utilizzato con una tastiera continua ad essere un tablet che secondo me è la forza del 2023 di iPad Pro cioè quello che lo scorso anno è stato l'iPad Pro e parlo di scorso anno che poi abbiamo salutato qualche ora fa perché realmente spero che da oggi possa partire una vera e propria rivoluzione nel campo dei tablet è quella di avere un convertibile che non faccia né una né l'altra cosa nel migliore dei modi ma che sia una e l'altra cosa nel migliore dei modi e ad oggi questa cosa purtroppo non ce l'abbiamo ancora ma una Magic Keyboard ripinita può essere utile per far crescere l'iPad e abbiamo ancora troppi limiti in questo modello a partire dai materiali a partire dal fatto che tolga risorse all'iPad anziché aggiungerle parlo in primis della batteria e poi veniamo realmente a quello che è il vero e proprio re quello che vorrei fosse il vero e proprio re di questo 2024 perché permettetemi di tornare quello del 2018 quello ossessionato dall'iPad perché spero che esca finalmente un prodotto che rivoluzioni le cose perché l'iPad per quanto mi riguarda non è più il prodotto che pensavo fosse e appunto per questo ho due tablet per questo ho detto vediamo come vanno le cose anche in un altro formato e ci sono situazioni dove pur avendo l'iPad Pro da 13 pollici preferisco quello da 8,3 e non vorrei che nel 2023 in qualche modo poi tutto fosse racchiuso sotto un unico calderone ma in questo 2024 le cose devono cambiare quest'anno vorrei che che l'iPad Pro diventasse il nuovo prodotto in grado di cambiare le regole del gioco a partire da una cosa che è l'autonomia iPad Pro da 13 pollici iPad Pro scusate iPad Mini da 8,3 tutti e due questi tablet sono dichiarati con la stessa autonomia da una parte ho un processore della serie M dall'altro ho un processore della serie A e quindi un prodotto pensato per i Mac l'altro prodotto pensato per gli iPhone che in qualche modo raggiungono uno scopo simile no se io sono un utente Pro ho bisogno di una batteria da Pro e finalmente ecco che come dicevamo settimana scorsa l'M3 presentato a fine ottobre sul Mac può dire finalmente ok facciamo durare la batteria degli iPad Pro più a lungo e quindi basta quelle 10 ore perché un prodotto sottile come il modello da 11 pollici o leggermente più spesso come quello da 13 non cambia molto e anzi se mi fai un prodotto più spesso da una parte più solido dall'altra parte mi garantisci più batteria cosa che forse verrà garantita anche da un pannello più sottile ma ovviamente della tipologia di schermo parliamo tra qualche minuto però se solo M3 oltre a garantirmi le performance che ovviamente M3 ci sta facendo vedere sui Mac mi garantirà più autonomia io sarei molto contento perché vuol dire che io la mattina posso uscire con il mio tablet magari con una Magic Keyboard con una batteria aggiuntiva e che renda esteticamente il pacchetto tastiera più tablet un po' più simile a un Mac e io posso andare in giro con un tablet e posso utilizzarlo magari in treno come tablet poi magari in ufficio attaccandolo alla tastiera e poi magari attaccando tutto uno schermo e usandolo come computer vero e proprio fatto sta che ad oggi le cose non stanno così e veniamo finalmente a parlare di quella che secondo me deve essere la caratteristica più innovativa ovvero il pannello OLED noi conosciamo la relazione di Apple con questi nuovi pannelli sin dal 2017 perché dopo ovviamente averle messi oramai dieci anni fa negli Apple Watch Apple nel 2017 mette su un prodotto più di larga scala i pannelli OLED in quell'estate del 2018 io avevo in tasca solamente un display OLED un display che la gente all'inizio criticava perché i produttori Android che utilizzavano già quella tecnologia a volte avevano problemi di blooming quindi in qualche modo avevano problemi non di blooming scusate di burn-in il blooming poi arriverà dopo con il display mini LED però quando una persona utilizzava un telefono e magari aveva un'app aperta molto poi i pixel venivano in qualche modo stampati sul display quindi magari anche se noi aprivamo Instagram avevamo l'interfaccia stampigliata di WhatsApp in questi anni dal 2017 al primo gennaio 2024 abbiamo avuto tanti iPhone OLED in tasca io problemi di burn-in non ne ho avuti e la differenza tra un display mini LED e un display OLED io non vedo l'ora di vederla perché in realtà Apple ha fatto un passo importante oramai tre anni fa perché nella primavera del 2021 ha lanciato un iPad da 12 pollice 9 con un display mini LED ha lanciato un display molto problematico perché l'effetto fantasma il blooming quindi effettivamente il contorno di pixel attorno all'elemento in maniera scura si vede molto sull'iPad si vede molto di meno sul Mac lanciato nello stesso anno perché ricordiamoci che a inizio 2021 nell'aprile del 2021 Apple lanciò l'iPad Pro da 13 pollici con il display mini LED e la stessa tecnologia poi venne implementata anche nella nuova generazione di MacBook Pro nella prima generazione di MacBook Pro realmente pro con Apple Silicon e io ad oggi nel momento in cui sto registrando ho davanti un display mini LED da 14 pollici e il blooming lì si nota molto di meno e io quindi contento dico va bene tanto con la prossima generazione di iPad Pro tutto in qualche modo verrà corretto sì ho avuto un iPad Pro M2 tra le mani ne ho avuti più di uno e il blooming Apple non l'ha minimamente corretto e queste cose ti fanno riflettere perché l'iPad non è semplicemente un prodotto pensato per la produttività poi effettivamente è forse il target a cui l'azienda punta quando ti vende un prodotto così importante anche dal punto di vista economico non costano poco gli iPad Pro e appunto perché un iPad Pro non costa poco che ti incavoli quando c'è molta poca qualità nella scelta delle tecnologie io ad oggi ho un iPad da 13 pollici è un prodotto che per quanto mi riguarda è ingombrante è un prodotto che ad oggi non so se continuerai a scegliere non so se è un prodotto che continuerò a scegliere e il fattore prezzo sarà determinante ma ad oggi io sono 71 pollici 30 13 pollici perché anche se dovessi prendere l'11 penso di continuare a tenere anche un iPad mini proprio perché mi sono affezionato a quella tipologia di prodotto che ripeto poi vedremo nella puntata di mercoledì quando parleremo degli altri prodotti Apple compresi gli altri iPad però l'iPad Pro deve puntare alla qualità estrema e un tablet come l'iPad Pro non può avere problemi di blooming ma soprattutto un iPad Pro come dicevamo prima sono due prodotti in uno è un computer e quindi è produttività e quindi la magic keyboard e quindi stage manager e quindi una parte che ad oggi Apple deve ancora comprendere dall'altra parte un tablet è intrattenimento dall'altra parte un tablet è consumazione di contenuti e ragazzi il pannello OLED fa la differenza ad oggi un pannello OLED Apple ce l'ha negli iPhone e in alcune situazioni ad oggi preferisco guardare un contenuto soprattutto al buio totale un display da 6 pollici 1 rispetto ad un display da 13 pollici proprio perché la qualità del display nel 90% dei casi è ottima ma manca un 10% che è quello garantito dai neri assoluti da un forte contrasto e questo secondo me sta nel prossimo iPod Pro e se realmente il nero dovesse finalmente conquistare uno schermo come quello di iPad non vedo l'ora di vedere la Dynamic Island ne ho parlato nella penultima stagione del podcast ne ho parlato spesso anche nel 2023 per me la Dynamic Island rappresenta una svolta in quello che è il modo di pensare le interfacce di Apple già ad oggi se teniamo vicini un iPhone 14 Pro o un iPhone 15 con gli iPad vediamo gli elementi di notifica in alto che riprendono in altri modi gli stessi elementi grafici che in qualche modo vanno ad espandere la Dynamic Island e la Dynamic Island rappresenta il futuro di Apple non sto parlando di una fotocamera esposta sul display dell'iPad Pro del 2024 credo che per questo Apple possa giocare con una forte riduzione delle cornici e magari tutta la componentistica racchiusa racchiusa sotto al display non il sensore del Face ID ma tutta la partue elettronica pensiamo semplicemente a quello che Apple ha fatto nel 2021 quando ha stretto il notch degli iPhone 13 Apple da quel punto di vista ha fatto un lavoro di riprogettazione andando a stringere molto gli elementi in questo caso Apple dovrebbe fare praticamente la stessa cosa al contrario lì tutto si è racchiuso verticalmente qui Apple deve stringere il tutto orizzontalmente e quindi la fotocamera potrà forse essere inserita con gli elementi del Face ID nella parte alta di una cornice che potrebbe tranquillamente essere dimezzata e quindi secondo me da questo punto di vista la fotocamera comunque sarà racchiusa nel bordo però la Dynamic Island deve rappresentare continuità non è che la Dynamic Island smetterà di vivere sugli iPhone quando nel 2017 Apple ha rimosso il tasto home non è che poi non abbiamo più visto nulla Apple ha riprogettato tutto e l'ha fatto anche nel 2018 esattamente come ritorniamo a quello che dicevamo rimuovendo la Dynamic Island non è che poi non avremo più quel tipo di interfaccia e quindi penso e spero che Apple possa iniziare anche a tiserare quello che sarà l'iPhone 17 l'iPhone 18 l'iPhone 19 dove tutti gli elementi saranno affogati ma magari già questo settembre noi avremo in mano gli iPhone 16 Pro solamente con la fotocamera esposta e nonostante Apple lascerà solamente un foro e poi ovviamente ripeto tra un paio di giorni parleremo di tutto questo quando Apple farà questa scelta la Dynamic Island gli elementi della Dynamic Island rimarranno e quindi perché non introdurla anche a livello virtuale a livello software anche sui tablet e magari poi tra la fine di quest'anno o magari l'inizio del 2025 anche sui Mac io sono molto curioso da questo punto di vista io spero che l'iPad Pro del 2018 possa rappresentare realmente il passato e con l'iPad Pro dei prossimi 90 giorni come finalmente posso dirlo l'iPad Pro di quest'anno rappresenti un nuovo inizio quindi con la speranza che l'iPad Pro possa far brillare un 2024 veramente veramente interessante sotto tutti i punti di vista tecnologici e ovviamente non perché la tecnologia è una passione la vita è un'altra cosa io vi auguro un buon inizio di 2024 spero che questo episodio speciale dedicato all'iPad Pro vi sia interessato vi abbia fatto piacere io su questo podcast non parlerò più di iPad Pro fino a che uscirà ci sarà la puntata di The Final Countdown il giorno dell'evento parlerò di iPad in quell'occasione in maniera diffusa ma noi torneremo a parlare di iPad Pro qui su Yetech quando effettivamente il prodotto uscirà oramai manca poco abbiamo iniziato il 2024 per cui ci sentiamo mercoledì perché il 2024 ovviamente non sarà solo iPad Pro ciao ciao